signore e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine solito usuale conosciuto consueto della mia libreria allora cari signori questo video è un pochino diverso dal solito perché questo video diverso dal solito vi semplice perché qualche giorno fa due giorni fa ho ricevuto dal sotto il insomma sul video relativo alla vicenda delle acceierie dell'ansaldo un messaggio che parte così il signor leo master 78 mi scrive perché hai minacciato il canale di ubaldo croce io minacciare il canale di ubaldo croce allora sia ben chiara una cosa chiunque tra gli utenti di questo canale sa bene che non ho la benché minima stima del signor ubaldo croce sa bene che non ho la benché minima stima di lui del suo canale delle sue idee delle sue opinioni di come si comporta di quello che pensa di quello che dice e non ho mai nascosto perché è nata questa inimicizia virtuale questa reciproca scarsa stima allora come ben sapete io ho aperto circa due anni fa questo canale e tra i primi video del mio canale li trovate nella timeline perché sono ancora tutti online dicevo nei primi video del mio canale troverete i video in cui parlo male di antonino trezzino e dei suoi libri antonino trezzino che come ben sapete è il santo patrono dei complottardi italiani in materia di seconda guerra mondiale il tradimento della regia marina i fantasiosi affondamenti del comandante grossi giustificati dalla doppia ora legale dal ritardo del fuso orario vabbè il fatto trezzino è stato assolto ah sì è la faccenda del canadese tranquillo dove la mettiamo nota bene trezzino ha sì vinto alcuni processi ma è stato condannato in altri processi il più clamoroso dei quali era quello relativo al libro il canadese tranquillo di montgomery hyde trezzino ne scrisse la prefazione in cui accusò apertamente il defunto ammiraglio alberto l'ice di tradimento di essere al servizio degli inglesi durante la seconda guerra mondiale poco prima della morte gli eredi dell'ammiraglio alberto l'ice non ci pensarono due volte denunciarono trezzino per difamazione e trezzino fu condannato insieme a montgomery hyde e alla casa editrice longhanesi la casa editrice longhanesi non perse assolutamente tempo mandò al macero il libro e trezzino se la prese in saccoccia ok allora dicevo io per avere esposto opinioni contrarie al sacro verbo trizziniano il signor ubaldo croce prese entrò in questo canale nei commenti a gamba tesa insultando minacciando con un fare aggressivo arrogante indisponente e soprattutto estremamente maleducato si vabbè insomma ragazzi parlo io parlo di maleducazione cioè porca puttana cioè va bene sono noto per incazzarmi sono noto per dire parolacce sono noto anche per avere bestemmiato come un animale in questo canale è vero ma ma io non entro a casa cioè questa bene o male è casa mia e mi si è concesso di dire che in questo canale io faccio un po quello che cazzo mi pare concedendo nello stesso tempo a tutti i commentatori massima libertà di espressione e lo ripeto e ripeto i commenti che sono spariti i commenti che sono stati cancellati sono stati cancellati dagli stessi utenti che li hanno postati perché semplicemente si sono resi conto di esseri stati spernacchiati ok allora ripeto che cosa succede due anni fa il signor Ubaldo Croce si accorge del fatto che questo scalzacane che vi parla ha aperto un canale youtube dove si parla di seconda guerra mondiale e orrore degli orrori non si parla propriamente bene di Antonino Trizzino e soprattutto ci si tiene ben lontani dalle retoriche nostalgiche oibò sia di qua che di là ok siccome il sottoscritto non è in simpatia le dittature tutte le dittature tutte le dittature ok l'ho sempre detto non l'ho mai nascosto ho sempre esposto la mia opinione in proposito ok dicevo il signor Ubaldo Croce vede questo canale come il fumo negli occhi e inizia a sproloquiarme e inizia a sproloquiare contro di me con epiteti quali ultrista seguace del superato santoni leggi cernuschi cernuschi dice nota bene cernuschi del quale sul quale ho molte perplessità come storico cernuschi dice peste e corna di trizzino e usare cernuschi come pezza d'appoggio per difendere trizzino vuol dire semplicemente usare me per parlare bene della juve vabbè allora scusate la divagazione ma riprendiamo il discorso dicevo il signor Ubaldo croce arriva in questo canale con aggressività con maleducazione con prepotenza con presunzione ok accusandomi veramente di ogni inequizia e turpitude e insomma come dire e inizio a fare quello che uno come me sa fare molto bene ovvero sia prenderlo in giro sì perché cioè che cavolo devo fare cioè prendi arrivi qua mi accusi di questo di quello vergognati disinformatore disinformatore e poi adesso vi faccio anche ridere praticamente il signor scusate dicevo il il signor leo master 78 mi dice perché hai minacciato il canale di Ubaldo croce due giorni fa il 21 aprile 2019 il signor leo master 78 mi scrive perché hai minacciato il canale di Ubaldo croce cioè io dico la verità cioè ci sono rimasto eh cosa chi ho minacciato l'ho preso in giro verissimo lo cito spesso e volentieri nel mio discorso come il mio arcinemico perché oggettivamente una persona che prende cioè facciamo conto questo canale è casa mia ok lascio a tutti la massima libertà d'espressione e chiunque può parlare e cosa è e dire la sua ma ma c'è modo e modo di farlo se qualcuno prende viene qua mi dice stronzo testa di cazzo bastardo figlio di puttana disinformatore bugiardo ultrista seguace del superato santoni vergognati non ti devi permettere perché io sono Ubaldo croce e chi cazzo se ne frega cioè insomma vabbè queste cose così ovviamente il signor Ubaldo croce è diventato un pochino lo zimbello di questo canale e l'ho eletto come dire al al ruolo di mio arcinemico va bene però come dire nonostante il signor croce sia bersaglio delle mie prese in giro io non l'ho mai minacciato non l'ho mai minacciato cioè sfido chiunque sui gruppi facebook in cui abbiamo parlato del personaggio sulle conversazioni che ho avuto con lui non c'è traccia di minaccia non c'è ombra di minaccia non l'ho minacciato cioè ma che cioè ma e in base a cosa lo minaccio cioè scusate una cosa cioè io in questo canale ci metto la faccia ci metto cioè ok non so non è un canale anonimo questo si vede la mia faccia c'è il mio nome michele spadoni c'è la mia faccia zio cancaro come diceva quello cioè dovrei essere ben deficiente per minacciare uno o come ha fatto qualcuno lasciare trapelare oscure cose oscure perché devi stare attento cioè paio d'anni fa signor croce disse cose del tipo devi stare attento tu perché qui perché la perché sotto perché la disinformazione non paga queste cose così va bene va bene allora il signor come dire leo master dopo alcuni commenti dei miei utenti così salta fuori con salta fuori con la storia che dice praticamente mette un post lo elimina e dice guardi io ho eliminato quel post solo perché non ero abbastanza lucido ma tornando nel discorso varie lamentele di questo canale verso alla signorina tapparello ed ubaldo così ubaldo aveva proibito alla federica di fare dei video ubaldo ha senza h ricevuto delle minacce sia sulla sua persona che sui suoi familiari tutto qui buona pasqua scusate allora ripeto allora in pratica il signor leo master 78 cancella un post nel quale dice ho eliminato quel post solo perché non ero abbastanza lucido evidentemente non ho fatto in tempo a leggerlo perché scusate ho anche un cazzo di vita privata ecco abbiate pazienza io a pasqua avevo molto di meglio da fare che ne perdere tempo con le puttanate dette dal signor croce e da certa gente diciamo così ripeto dice ma tornando nel discorso puntini 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 varie lamentele da parte di questo canale verso alla signorina federica tapparello ed ubaldo così ubaldo aveva proibito alla federica di fare dei video ubaldo ha senza h ricevuto delle minacce sia sulla sua persona che sui suoi familiari tutto qui buona pasqua allora siamo sinceri ritorniamo ricapitoliamo un attimo torniamo ancora alla famosa storia del video in cui spiegavo che ugo boss non è lo stilista delle ss ma solo un fornitore per quanto ugo boss fosse un entusiastico sostenitore del nazismo per quanto fosse un fervente nazista ugo boss non fu mai mai e sottolineo mai lo stilista delle ss gli stilisti erano il professor carl dibicci e il grafico walter heck ok io dicevo queste cose in quel video è reperibile la signorina tapparello scrisse un delirante commento nel quale mi si accusava di essere un disinformatore nel quale mi si accusava di dire bugie con un italiano quanto meno sgrammaticato con una come dire connessione tra le frasi decisamente ballerina adesso va bene ripeto io non sono laureato io sono la terza media ma quanto meno cerco di esprimere cerco di esprimermi in un in in un italiano comprensibile non in un italianese correggiuto che non si capisce da dove viene fuori ok allora cosa succede succede che io leggo le deliranti uscite della signorina tapparello ci faccio un video sì ironico sì per prenderle in giro sì per come dire cioè entri a casa mia dici un sacco di boiate non puoi pretendere che il sottoscritto non non ne approfitti non ne approfitti e non ti prenda in giro ma mi sono limitato a prenderle in giro ci sono i video ci sono i commenti ma io sfido chiunque a dimostrare che io ho minacciato il signor ubaldo croce che io ho minacciato il suo canale che io ho minacciato la signorina federica tapparello li ho presi in giro sì li ho presi in giro l'ho fatto lo rifarei se me ne capita l'occasione quando spareranno nuovamente le loro castronerie li prenderò ancora in giro perché ritengo che sia un dovere civico prendere in giro certi personaggi perché se lo meritano e che cosa succede succede che adesso mi vengono dire io li ho minacciati chi li ha minacciati perché perché avrei dovuto minacciarli perché 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 semplicemente li ho presi in giro con dei video su youtube dopo che loro me ne avevano dette di tutti i colori può bastare come 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 spiegazione c'è gente gente veramente ragazzi cioè insomma si è perso veramente il senso del ridicolo scusate se ve lo dico perché hai minacciato il canale di ubaldo croce ma cosa me ne frega a me di minacciare il canale di ubaldo croce è vero io del signor ubaldo croce non ho la minima stima non ho la non ho la minima stima ne ho una pessima considerazione cosa assolutamente reciproca ma io mi sono ben guardato dal minacciarlo perché non sono il tipo che minaccia le persone io posso prendere in giro posso fare ironia anche pesante posso fare del sarcasmo verissimo ma scambiare la presa in giro scambiare le mie faccine famose quelle con gli occhi sgranati quelle insomma quando faccio così per minacce cioè bisogna essere veramente rincretiniti per crederci cioè io sfido signori io oramai ho pubblicato oddio non ne ho neanche contati credo di aver pubblicato sui 300 video circa io sfido chiunque di voi a trovare minacce nei commenti nei commenti nei video sfido chiunque a trovare minacce nei confronti della signorina tapparello nei confronti del signor ubaldo croce nei confronti di tutti i seguaci della cosiddetta accademia della libertà che vengono spesso e volentieri qui in questo canale palesamente a provocare e a rompere i coglioni sono dei troll cioè i troll io mi diverto a prendere in giro i troll mi diverto in giro a prendere in giro i provocatori mi diverto a sputtanarli perché semplicemente quello sono degli ignoranti se uno è un ignorante come diceva il vecchio gianfranco funari il compianto gianfranco funari te quando uno è stronzo ogni poi di che è stupidino gli devi di che è stronzo diceva e bene o male questo faccio ma ripeto un conto è prendere in giro persone che sparano cavolate un conto è prendere in giro persone che si coprono di ridicolo aprendo bocca un conto è fare video ironici su commenti pubblicati sul mio canale youtube per cosa c'è è un conto sono le minacce c'è io il famoso video sul caproni campini usato come caccia per spazzare via le aeronautiche alleate dai cieli io li ho presi in giro perché è una clamorosa castroneria ed è una clamorosa castroneria c'è gente che quando ha sentito quella cosa pronunciata pronunciata dai nel canale di Ubaldo Croce cioè mi ha detto semplicemente cioè mai che cosa aspetti cioè non posso non prendere in giro persone che dicono simili puttanate e loro dicono delle cose io rispondo alla mia maniera con ironia anche greve lo ammetto con sarcasmo lo ammetto con una punta di cattiveria ma non sono mai arrivato a minacciare nessuno anche perché non sono il tipo cioè scusate cioè dovrei essere un cretino integrale io per minacciare qualcuno non tutti gli utenti di questo canale mi stanno simpatici e vorrei anche vedere non tutte le persone che interagiscono in questo canale sono di di mio gradimento e viceversa anche io sto sulle balle a tanti dei commentatori e i commenti parlano chiaro ma io sfido chiunque a dire che ho minacciato qualcuno ho minacciato qualcuno io non mi ricordo di avere minacciato qualcuno e tantomeno di avere proferito minacce del signor nei confronti del signor Ubaldo Croce del suo canale dei dei suoi seguaci io che vi devo dire quando ho aperto questo canale e mi sono trovato il signor Croce nei commenti con alcuni dei suoi commenti con alcuni dei suoi adepti della cosiddetta accademia delle libertà cioè mi sono trovato di fronte a persone con una povertà di argomenti e di conversazione spaventosa cioè io i libri che vedete qua dietro me li sono letti tutti più volte se uno si guarda i video di Croce che parla con baroni con questo con quello scoprirete che non ci sono libri cioè io mi ricordo di aver visto un video del signor Ubaldo Croce in cui Croce parlava con baroni ok parlava bla 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 parlava cioè Croce parlava adesso non posso farvi come dire non posso ripetervi con precisione le parole ma io ricordo bene che Croce fece una gran figuraccia perché dimostrò glissando svicolando tirando su per cazzo di vario tipo di non avere minimamente letto il libro di di baroni di cui parlava cosa ci dice di questo libro svicola gliss cioè così io i miei libri li ho letti li ho letti anche più volte ne parlo ne ripeto ne discuto così ma cioè ma almeno li leggo il problema è che questa cosa a quanto pare da molto fastidio a qualcuno infastidisco il signor Ubaldo Croce faccia pure molti di questi nemici molto onore come diceva georg von frunsberg il comandante dei lanzichenecchi imperiali al sacco di roma ma cioè mandarmi qui persone come quando arrivo qua ripeto la signora tapparello a minacciarmi insomma ad accusarmi di fare disinformazione perché perché avevo scritto che Ugo Boss non era lo stilista delle ss con la signorina tapparello che in quell'occasione dimostrò di non avere assolutamente visto il mio video perché nel video spiegavo chi era Ugo Boss perché nel video spiegavo che Ugo Boss era Ugo Boss con l'h Ugo Boss era un importante fornitore delle ss ma non lo stilista e nel video questo lo spiegavo chiaramente ma la signorina tapparello non ci badò minimamente a quello che dicevo nel video e partì con una sgrammaticata giaggulatoria contro di me accusandomi di disinformazione di servilismo sorosiano nei confronti delle demoplutocrazie giudaico massoniche e del nazismo sionista e dopo non li devo prendere in giro ma io fino a che ci avrò fiato in corpo vi prendo per il culo perché ve lo meritate ma da qui a mandarmi uno che con un italiano quantomeno incerto con una quantomeno zoppicante grammatica italiana mi viene a dire che io ho minacciato Ubaldo Croce che perché hai minacciato il canale di Ubaldo Croce cioè perché lo chiedo anche voi gente perché ho minacciato il canale di Ubaldo Croce perché avrei minacciato il canale di Ubaldo Croce dove cazzo stanno queste minacce nei confronti di Ubaldo Croce e del suo stramaledetto canale cioè io lo guardo per farmi quattro risate il canale di Ubaldo Croce prendo il giro il signor Ubaldo Croce dicendogli di andare a guardare i cantieri perché è quello che deve fare secondo me al posto di parlare di storia perché non è roba per lui e lui mi tratta da pagliaccio vestito a festa da buffone da questo da quello a quell'altro e quell'altro ancora ma che cazzo me ne frega a me di come mi considera lui visto che tu sei tu caro signor Ubaldo Croce sei venuto due anni fa in questo canale entrando a gamba tesa con una maleducazione assolutamente ineguagliabile con una arroganza una prepotenza una volgarità e una pochezza mentale e umana ad il poco scandalosa non pretendere che uno stronzo come me non si metta a prenderti in giro perché te lo meriti ma da qui a mandarmi uno a dire tu hai minacciato Ubaldo Croce ma come cazzo mi salta in mente c'è cosa 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 io sfido chiunque sfido chiunque a trovare minacce nel mio canale o nelle mie conversazioni facebook quando parlo del signor Croce sfido chiunque a trovare espressioni minacciose nei confronti del signor Croce e dei suoi adepti troverete espressioni perculatorie verissimo troverete ironia pesante verissimo troverete sarcasmo nei confronti del signor Croce e di quelli che gli stanno dietro ma da qui a minacciarli ce ne corre anche perché chi ha ricevuto minacce e insulti e ingiurie cioè chi ha cominciato a rompere i coglioni non sono stato certo io è stato lui e la timeline di questo canale parla estremamente chiaro se quello che dico dà fastidio al signor Croce e ai suoi seguaci facciano pure per me uno per me è onore al merito perché vuol dire che questo canale serve a qualcosa serve a dare fastidio ai ritardati agli analfabeti funzionali ai minchioni ai fanatici ai presuntuosi io l'ho detto io sono armato soltanto delle cose che so delle cose che ho imparato coi libri sono armato delle cose che ho imparato coi libri sono armato delle della preziosa amicizia di persone che hanno fatto della storia il loro mestiere e che mi aiutano nel mandare avanti questo canale sono aiutato anche dai miei utenti da tutti i miei utenti tutti i miei utenti anche quelli che mi detestano mi hanno insegnato qualcosa tutti e io ho aperto questo canale per semplicemente per vanità personale lo ammetto l'ho sempre detto sono vanitoso sono protagonista sono un cazzo di prima donna di merda sono un ex cantante metal di scarsissima fortuna un discreto dj metal bravo esibizionista va bene non mi posso nascondere lo sono ma da qui a dire che io ho minacciato qualcuno cioè bisogna veramente essere rimbecilliti per dire una cosa simile e poi e poi e poi e poi veramente cioè io vorrei solo sapere una cosa cosa significa ho eliminato quel post solo perché non ero abbastanza lucido virgola ma tornando nel discorso puntini 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 varie lamentele da parte di questo canale verso alla signorina federico tapparello ed ubaldo così ubaldo aveva proibito alla federica di fare dei video ubaldo ha senzacca ricevuto delle minacce sia sulla sua persona che sui familiari ma da chi ha ricevuto queste minacce non da me che io sono il primo a dire che chiunque allora il fatto è questo qui io di minacce con questo canale ne ho ricevute la timeline del canale parla estremamente chiaro i commenti soprattutto su certi video parlano estremamente chiaro su chi è stato minacciato signor leo master 78 ma io sinceramente delle minacce di certa gente faccio come totò nei due colonnelli mi ci pulisco il... ok? quindi va bene signori scusate la tirata scusate il verboso sfogo ma ritengo che fosse una cosa giusta da dire ripeto per quanto che io possa prenderlo in giro per quanto che io ne abbia una scarsissima stima per quanto che lo consideri un personaggio... lasciamo perdere insomma glielo dico semplicemente cioè... dire che io ho minacciato il canale di Ubaldo Croce vuol dire semplicemente non avere capito un cazzo di me non avere capito un cazzo di questo canale non avere capito assolutamente niente 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 tutto qua quindi cari signori io vi ringrazio scusate per la lunga verbosa noiosa tirata ma ritengo che sia... che insomma che fosse doveroso parlarne tutto qua quindi cari signori scusate ancora io vi ringrazio nuovamente per l'attenzione spero che abbiate passato una felice e serena Pasqua almeno quanto la mia e come sempre arrivederci al mio prossimo video ciao 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 ciao